Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento con le Breaking News. Esauriti i volumi disponibili alla discarica valdarnese di Podere Rota. Dal 12 settembre dunque stoppa i conferimenti. L'autorità di ambito della Toscana Sud dovrà inviare i rifiuti in altri siti. Sarà il cantautore Simone Cristicchi il protagonista della serata ad Arezzo di celebrazioni per la giornata internazionale per la pace promossa dalle Nazioni Unite. Lo spettacolo, sostenuto e finanziato dal Consiglio regionale della Toscana, è in programma il 21 settembre al Teatro Petrarca. L'iniziativa è organizzata con Rondine Cittadella della Pace e OIDA, orchestra instabile di Arezzo, che si va sempre più affermando. Una cena sociale per rilanciare le attività del circolo la organizza il Centro di Aggregazione Sociale Pescaiola per venerdì prossimo 16 settembre. La cena sarà l'occasione per promuovere il programma delle iniziative future. Sono più di 400 le persone che animano l'attività del circolo. Cultura, aggregazione e ricreazione sono i loro principali obiettivi. Queste erano le nostre breaking news.